I hear the sound of music, your favorite kind of music, and that reminds me, dear, of you. Presentato al Festival di Venezia, un documentario di Antonello Sarno, dal titolo Schubert, l'atelier della dolce vita, che è stato per la moda italiana Schubert e che cosa rappresenta per il cinema internazionale? Dunque Schubert per la moda italiana è stato il papà della grande moda italiana, dell'alta moda italiana, è stato il primo italiano a sfilare a Parigi e aveva come collaboratori nomi come Valentino, Renato Balestra, Roberto Capucci, quindi il primo ad avere un grande atelier in via Condotti, è stato proprio il vero e grande papà della moda italiana insieme alle sorelle Fontana e a Bichi a Milano, insomma erano molto pochi. Per il cinema internazionale e anche per quello italiano è stato il grande creatore di moda che vestiva tutte le dive, non c'erano tanti stilisti in cui negli anni 50 Schubert era il punto d'arrivo di una grande attrice. Avere un vestito di Schubert era un traguardo, era uno stato simbolo, oggi ogni stilista ha la sua dive di riferimento e viceversa. All'epoca tutte volevano Schubert. Emilia Schubert mi ricorda la mia carriera agli inizi, ha fatto gli abiti più belli che io ancora ho. Era veramente un po' unico, ecco, un po' tanto. Ne esce un'immagine di Schubert estroso e ironico ma anche un instancabile lavoratore. Sì, un instancabile lavoratore, nato a Napoli di formazione austriaca, il suo cognome è esattamente lo stesso del celebre musicista, infatti all'inizio mi chiedevano se era un documentario sul musicista, ho detto ma veramente non ci sono immagini del Settecento, non c'era. Franz Schubert, no, Emilio Federico Schubert che è scomparso nel 72 e con lui purtroppo anche il suo atelier ha chiuso, anche se adesso il marchio è tornato sul mercato, era un instancabile lavoratore. Pensa che quando Soraya, la principessa Soraya, fu ripudiata dallo Shah di Persia, arrivò a Roma alla metà degli anni Sessanta, si rifugiò da Schubert che era il suo stilista perché era dovuto andare via in fretta e furia e non aveva quasi vestiti. È arrivata alle 8 di sera da Schubert e ne è riuscita alla mattina alle 8 con un guardaroba fatto su misura, espresso di notte, di 30 vestiti. Tua, tra le braccia tue, solamente tua, così tua, sulla bocca tua, dolcemente mia, così Qual è l'eredità che lui ha lasciato e cosa ha insegnato alle giovani generazioni? Ma Schubert ha insegnato alle giovani generazioni la grande lezione della creatività italiana che si contrapponeva già all'epoca a quella francese, di Dior, per intenderci, quindi una innovazione dello stile più classico che oggi è stata ripresa da tutti gli stilisti, ma nel mio documentario vengono indicati sostanzialmente tre nomi di riferimento, cioè Valentino, Versace e Jean-Paul Gaultier, dice Pierre Cardin che abbiamo intervistato, come appunto tre fra i tre geni più importanti, più creativi e anche più trasgressivi dell'alta moda internazionale, bene, hanno imparato la loro lezione proprio di Emilio Schubert. ...è l'Italia, io ho fatto un nome internazionale, Schubert è conosciuto in tutto il mondo ed io rimanco qui in Italia a fare la moda italiana e a mandarla in tutto il mondo.